Se ti fosse già capitato di cadere dal letto durante il sonno, sappi che hai bisogno di proteggerti, perché potresti farti anche molto male. Immagina, cadendo dal letto, mentre non sei cosciente, non puoi fermare la caduta e non ti puoi nemmeno riparare. Allora, per evitare problemi e continuare a dormire in serenità, hai bisogno di procurarti delle sponde letto valide. Quindi, se vuoi andare a colpo sicuro, non vuoi sbagliare, ascoltami per qualche minuto e otterrai certamente la risposta. Ma non è tutto, perché ti permetterò di scoprire esattamente cosa valutare per un'esperienza perfetta e come trovare una soluzione veramente eccezionale. Ma prima di tutto definiamo meglio cosa sono le sponde letto, perché, diciamocelo, si fa presto a parlare di sponde letto o letto barriere. Quindi, vediamo innanzitutto bene cosa sono esattamente e ragioniamo sulla tua specifica necessità. Così eviterai un acquisto errato che potrebbe non soddisfare completamente la tua esigenza se non addirittura causarti qualche problema. Quindi ricorda, se avessi domande su questo argomento, potrai sempre contattarmi dal mio sito www.savoldi.net. Ma iniziamo subito. Quindi, molto semplicemente, le sponde letto sono sostanzialmente delle barriere laterali che ti forniscono una maggiore sicurezza dalle cadute accidentali durante il sonno, oppure semplicemente durante il riposo, indipendentemente che sia diurno oppure che sia notturno. Quindi, definiamo cosa invece non è un letto a sponde. Per capire cosa non è, ti dico che il letto a sponde, per esempio, non può essere la soluzione a tutti i problemi di contenimento e va utilizzato in maniera appropriata. Voglio dire, non potrai, per esempio, scavalcare le barriere laterali per salire oppure scendere dal letto senza prima rimuoverle oppure abbassarle, perché queste non supportano il peso di una persona e potrebbero anche diventare pericolose. Allo stesso modo, le sponde letto non sono pigli su cui potrai caricare tutto il tuo peso per aiutarti a muoverti, perché a questo scopo esiste un accessorio con un'impugnatura triangolo, che si chiama asta solleva malato, che può venire inserito in letti predisposti oppure può avere una piantana e rimanere appoggiato a terra. C'è anche da dire che quando le sponde sono robuste e ben installate, il rotolamento del tuo corpo verso l'esterno del letto non causerà alcun problema e del resto le sponde sono progettate e costruite proprio per questo specifico scopo, cioè contenere una persona nel perimetro del proprio letto al fine di evitare le cadute occidentali durante il sonno oppure anche semplicemente durante il riposo. Prima di decidere quali sponde acquistare, valuta bene le tue esigenze. Potresti per esempio desiderare di poter scendere dal letto oppure salire in completa autonomia, oppure magari potresti avere bisogno di un aiuto e per questo esistono prodotti diversi. Una valutazione sul tuo livello di autosufficienza ti permetterà di scegliere il prodotto più adatto a te. Allora, quale giro letto spondo e comprare? Le sponde che puoi scegliere sono quelle che ti forniranno un maggior grado di protezione e sicurezza, perché ti ricordo che il più delle volte quando cadi dal letto non ne sei cosciente. Quindi il primo suggerimento che ti posso dare è quello di dare sempre la priorità alla sicurezza e non è poi così scontato, sai, dato che alcune persone purtroppo ne fanno solo una questione di prezzo. Inizialmente finiscono per provare delle sponde per bambini e che purtroppo però non sono dimensionate per il peso degli adulti. Ok? Una struttura perimetrale completa a giro letto dal mio punto di vista è sempre da preferire rispetto al prodotto da applicare alla rete, perché non essendo semplicemente agganciata non può staccarsi e questa particolarità ti eviterà in futuro di rischiare di cadere dal letto assieme alla sponda e un'eventualità che potrebbe esporti anche a rischi maggiori. Ora immagina, mentre stai dormendo spingi continuamente contro la sponda applicata alla rete, questo a un certo punto si sgancia, tu cadi a terra, picchi magari la testa contro lo spigolo del comodino e ti rimangono le braccia infilate sotto la sponda che è caduta assieme a te. Auguri! Considera poi l'utilizzo di materiali morbidi. Per esempio una barra di metallo che è fredda e dura ai lati del letto non ti darà lo stesso comfort di una sponda in legno che è in materiale più morbido e più caldo. Considera poi l'aspetto estetico delle sponde letto che andrai a comprare. Questo per te potrebbe essere un dettaglio trascurabile, ma spesso conta molto perché devi utilizzare il letto. Forse non lo sai, ma molte persone, specie se più in là con gli anni, tendono a rifiutare tutti quei prodotti che in qualche modo richiamano alla mente una qualsiasi forma di inabilità e chiaramente si allontanano a livello percettivo al buon, vecchio e rassicurante letto di casa che di solito è in legno. Per cui quanto più riuscirà a ricreare un ambiente familiare e maggiori saranno le possibilità che il nuovo letto a sponde venga ben recepito ed accettato da chi lo deve utilizzare. E allora arriviamo al nocciolo del discorso, cioè dove comprare le sponde per il tuo letto o il giro letto a sponde. Nella mia azienda artigiana a Treviglio in provincia di Bergamo realizziamo il giro letto a sponde in legno e li facciamo tenendo conto di tutto quello che ti ho detto fino adesso e quindi anche con barriere a scomparsa che per il loro basso impatto estetico ricreano un ambiente caldo e familiare. La versione Smart Bed Deluxe è dotata di sponde scorrevoli autobloccanti in legno piatto sui lati ed arrotondate nelle parti superiori e inferiore e questo ti eviterà di traumi nel caso in cui ti dovessi appoggiare durante il sonno. Le testate in legno hanno delle linee dolci ed hanno sensazioni calde e familiari. Il giro letto a sponde invece nella versione Relax Deluxe sono adatti a chi desidera scendere e salire dal letto in autonomia e per questo motivo necessitano di validi sostegni appigli. Questi sono tutti i complementi dal redo artigianale che nel tempo si sono evoluti e sono stati in grado di realizzare un cambiamento per chi li ha adottati perché fanno la cosa giusta per le persone giuste. Certo non costano come la spondina da applicare alla rete ma certamente ti costeranno molto meno che comprarti la spondina ultra economica che potrebbe rischiare di rovinare la tua rete elettrica magari cadere ugualmente per terra. Bene spero che ti sia tutto chiaro se ti fosse rimasto qualche dubbio oppure se hai bisogno di altre informazioni contattami sul sito www.savoldi.net oppure puoi chiamarmi al numero 0363 40703. E se questo video ti è piaciuto mi raccomando condividilo sui tuoi social inseriscilo nel tuo blog e soprattutto iscriviti al mio canale youtube. Ti ricordo che mi trovi anche in podcast sulla tua piattaforma preferita con tanti altri contenuti interessanti. Mi raccomando cerca sempre Savoldi il tuo falegname di fiducia. A presto!